Buongiorno dalla redazione di Florence TV, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori 2 km di coda tra Incisa Leggello e Firenze Impruneta, rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze e code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla FIPILI per lavori 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze, un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare e ancora per lavori 2 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est in direzione Mare e un chilometro di coda tra Ponte d'Era Est e Montopoli in direzione Firenze. Per incidente un chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!